Terza giornata di interrogatori in procura Pescara per l'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola che il 18 gennaio scorso causò la morte di 29 persone. Quella di oggi è stata la giornata dedicata agli interrogatori dei dipendenti, dei funzionari, degli amministratori ed ex amministratori del comune di Farindola. In verità non tutti si sono presentati perché il sindaco Ilario Lacchetta ed Enrico Colangeli responsabile tecnico del comune di Farindola attraverso i loro legali hanno chiesto il differimento dell'interrogatorio. Si è invece presentato in procura e ha risposto alle domande del procuratore Massimiliano Serpi e del PM Andrea Papalia l'ex sindaco Massimiliano Gian Caterino che si è detto sereno dopo l'interrogatorio è tranquillo per aver fatto tutto il possibile. Noi proprio andiamo ad ascoltare le parole di Massimiliano Gian Caterino dopo l'interrogatorio in procura Pescara. Io con la mia coscienza sarei a posto altrimenti non me lo perdonerei mai insomma. Lì ho perso mio fratello oltre a un sacco di amici quindi oltre ad altre persone che conoscevo comunque o altre che non conoscevo ma il rispetto della vita umana imporrebbe nel caso in cui mi ritenessi responsabile imporrebbe comunque un grossissimo peso sulla coscienza che in tutta sincerità non mi sento di avere ma poi c'è la magistratura che svolgerà il proprio compito e che arriverà a definire e spero in tempi non biblici le responsabilità penali, personali. Per lei quella adesso è una montagna maledetta o resta comunque il luogo del cuore di tutti i farindolesi? Beh io avevo detto che non ci sarei più salito da appassionato della montagna e non è così. Vado ad onorare la memoria dei miei fratelli e degli altri che hanno perso la vita lì e vado così perché comunque sono legato al mio territorio e lo rimarrò. Nonostante questa tragedia che è inutile negarlo ha segnato la vita non solo mia ma di tutti i farindolesi ma credo anche di tante altre persone che ci hanno espresso così la loro solidarietà nei momenti più bui che la mia comunità ha dovuto sopportare, ha dovuto superare.